Fiera RHS Hotel di Cattania edizione 2015. Ora vi dimostriamo una prova di cottura della scrocchiarella della ditta Ital 1000 sul nostro forno FRV100 elettrico ventilato della Morello Forni. Qui vediamo il tecnico Pietro Tallarini che stende la scrocchiarella. Grazie a tutti. Temperatura di cottura 300 gradi in camera e 300 gradi in platea. Massima velocità di rotazione programma 1. Qui vediamo la versione estetica in cupola mosaico Vesuvio. Grazie a tutti. Questo è il pannello di controllo touchscreen del forno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la prima fase di cottura. Questa è la prima fase di cottura. altra scrocchiarella dentro. e si riparte. e si riparte. e si riparte. e si riparte.